Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico92, sempre coi problemi di connessione, ma ci ritroviamo oggi in un nuovo video su Warzone. E nel video di oggi, come avrete ben capito dal titolo, vi mostro la mia situazione super laggante per quanto riguarda la mia connessione che non ho ancora risolto. Niente di dire di speciale su questa partita, una partita normale in cui stavo facendo le mie chilette, ma già dal primo momento ho avuto il segnale laggante della connessione. E quindi vedete come alla fine sono morto. Penso che sarei morto lo stesso perché il nemico mi ha preso dalle spalle, ma guardate che cacchio di laggata ho tirato. Per le armi ragazzi, ho raccolto delle armi da terra di un nemico perché come vedrete il mio loadout ha deciso di scomparire, mistero, mistero. E quindi ragazzi non c'è più altro da dire. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi minaccio, abbonatevi al mio canale e attivate le notifiche se non volete perdere i miei video. Altrimenti non arriverete al panettone. Scherzo ragazzi, ovviamente mi farebbe piacere, ma è facoltativo. Ci vediamo in un prossimo video. Dai! Ma vedi perché mi dà sti cazzo di pugni, perché... One eternity later. Dai, ti aspetta, ho qua che rinasci. One hour later. Ah, ti aspetta, ho qua che rinasci. Ehi, il mio Loddy? Mah. Oh. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.